Miss Adriatico appena a vincere Vanessa Clerico, a presiedere la giuria il sindaco Gilberto Petrucci. Sindaco, che serata è stata? È stata una serata meravigliosa, straordinaria, davvero le ragazze bellissime, è stata anche, come dire, la scelta non è stata facile, però sono contento, prima di tutto che al di là del gioco ci siano davvero tanti contenuti, queste ragazze hanno dimostrato di avere anche carattere e cultura e questo mi riempie davvero il cuore perché, insomma, sono una futura generazione e come sindaco sono soddisfatto. Che estate sta vivendo Penne? Con questa iniziativa straordinaria, voluto fortemente dal mio assessore Emilio Camplese, stiamo organizzando tanti eventi importanti, sarà la Notte Bianca e poi il concerto con Tiro Mancino il 24 agosto a Penne, sarà una serata meravigliosa. Sapene vuole rinascere e vuole avere soprattutto un ruolo importante nella nostra provincia. Che serata è stata per la vincitrice, la nuova reginetta della bellezza, Vanessa Clerico? Allora, sicuramente una serata piena di emozioni e sicuramente questa vincita inaspettata perché era totalmente inaspettato. Se ti potessi descrivere in pochi secondi pregi e difetti di Vanessa Clerico, che cosa ci potresti dire? Allora, difetti che sono molto impulsiva, quindi non penso molto prima di agire e pregi che comunque sono abbastanza socievole, quindi riesco a unirmi bene in un gruppo come il gruppo che si è creato qui a Miss Adriatico. Alla tua proclamazione ti sono venute tutte incontro, ti hanno stretto in un abbraccio davvero molto forte, ma tu a chi dedichi questo primo posto? Sicuramente a mia mamma che mi ha sempre supportato e anche a Shakira e Shaza, le due Miss qua, che sono mie amiche strette e mi hanno supportato e ci siamo sempre supportate a vicenda. Vanessa, in bocca al lupo! Grazie mille!